Ciao a tutti, allora oggi vedremo cosa serve a tutti quegli utenti che hanno, che utilizzano il sistema operativo Windows, quindi una cosa che non può mancare in questo caso, non potrà mancare o un dischetto o un dispositivo USB, quindi il contenuto diciamo all'interno è importante, perché può essere registrato in entrambe maniere, però l'importante è proprio il contenuto, detto quello che c'è all'interno, quindi chi utilizza il sistema operativo Windows, quello di Microsoft. Allora, molte volte vi sarà capitato e sicuramente è capitato, insomma vi capiterà, che il sistema operativo non vi funziona a dovere, quindi ha qualche problemino, o addirittura nei peggiori dei casi, pre-internue non si avvia il vostro sistema operativo, quindi avete difficoltà proprio ad entrare all'interno del sistema operativo, quindi perdendo dati, il fatto che magari chi è inesperto non riesce a aprirsi un computer, soprattutto se sono i notebook di nuova generazione, quindi che non hanno più il vano retro, che bastava svitare una vitina per uscire l'hard disk e clonarselo in un'altra parte per salvarsi i file, e tutti gli only one che hanno un'apertura un pochettino complicata, per chi non è brava a maneggiare il materiale hardware, abbiamo detto, quindi per tutte quelle persone che hanno difficoltà e il sistema operativo ovviamente non si avvia, è un problema andare a recuperare dati o cercare di far ripartire quel sistema operativo. Quindi in questo caso io consiglio ed è obbligatorio avere a casa una versione del famoso, ovviamente oltre al sistema operativo con licenza, una famosa versione del sistema di Windows che viene chiamata proprio Windows Live. Allora, cosa è il Windows Live, o possiamo anche parlare, casomai, di Rufus. Fra parentesi, sarei a dire che il Rufus mi è venuto in mente, l'ho utilizzato io per moltissimi anni, però l'ho utilizzato anni addietro, mi è venuto in mente grazie al commento proprio di un utente riguardo a un altro sito che non c'entrava niente, che parlavamo proprio di sistema operativo, lui parlava di sistema operativo, quindi proprio mi è venuto in mente anche di quando io ai tempi utilizzavo il Rufus, che fa parte anche della versione Live. Quindi intanto spiego bene quali sono queste versioni Live e da cosa si differenziano da quelle invece eseguibili che sono quelle classiche Windows. Quindi la versione, quella ovviamente che noi andiamo a comprare con licenza, è la versione classica che fornisce il sito proprio originale di Microsoft. Quindi ovviamente noi avremo in base alla nostra versione o quanto andiamo a pagare, abbiamo la versione, vi posso dirla Home Edition, oppure le versioni Pro di Windows che possono essere 11, 10 e via dicendo. Quindi queste sono le versioni che più, insomma, a noi ci aggrado, quindi andiamo a acquistare la versione che più ci interessa. Diciamo che le versioni, quelle più comuni e più vendute agli utenti finali, sono sempre le Home Edition. Le versioni Pro magari sono più adatte per uffici o magari anche stessi utenti, insomma, che vogliono le versioni Pro. Perché sono alla fine differenze che proprio un utente che fa un utilizzo normale del computer nemmeno percepisce. Quindi fra la versione Home e quella Pro. Invece le versioni Live, di cui fa parte anche, abbiamo detto, il Lufus, cosa sono? Ovviamente sono delle versioni che ovviamente non sono vendute da Microsoft. Quindi sono delle versioni fatte da alcuni utenti, insomma, cervelloni, smanettoni, che creano proprio una versione Live. Quindi che non gira sull'hard disk installando parte di sistema operativo, ma gira utilizzando invece la RAM. Quindi gira sopra la memoria RAM, quindi quella virtuale del computer, non quella fisica. Del vostro computer, che lì avrebbe bisogno soltanto di un file ineseguibile. Quindi in questo caso riusciamo a fare partire il nostro sistema operativo che non vuole partire tramite questo disco OpenDrive, quindi dipende dalla masterizzazione, tramite questo disco Live. Quindi riusciamo a far partire il sistema operativo utilizzando questa versione Live che gira, grazie all'utilità della RAM, quindi che gira su un memoria RAM. In quel caso riusciremo ad entrare dentro il nostro PC a fare alcuni lavori, quindi a cercare di riparare facendo una piccola scansione, perché ricordo che questi sistemi operativi Live, se sono fatti e creati bene, hanno all'interno molte utility, ovviamente, che servono al computer. Quindi per dirci non troverete mai un'utilità che può essere Word, perché a noi non interessa un'utilità di Word andarci a lavorare sul computer che è danneggiato, ma ci saranno tutta quella lista di utility che serviranno proprio per cercare di riparare il computer o per salvare dati, quindi programmi di backup, antivirus, programmi che cercheranno di riparare il PC, quindi andare a fare una scansione. Quindi tutti questi file li troveremo all'interno come seguibili. In questo caso, quindi, noi, se abbiamo per esempio un problema dal computer che è proprio qualche file di avvio sia eliminato, abbiamo beccato qualche virus che non permette proprio al computer, basta andare a reperire online questa versione del Live, andarla a masterizzare o su dischetta, abbiamo detto, quindi farlo partire dal boot, dal BIOS, o nel metterlo in una pendrive, farlo partire sempre dal boot tramite pendrive, dando come prima avvio quella della USB, e in questo caso possiamo entrare benissimamente dentro, ma giocamente il nostro computer andrà a fare tutti questi lavoretti che interessa. Intanto il salvataggio dati per chi interessa si andrà a salvare i dati, poi cercare di riparare per evitare di andare a formattare la macchina, però tutt'al più diciamo che il danno sempre peggiore che può avere un intento è quello di perdere i dati, la paura è quella, quindi una volta che noi abbiamo salvato i dati, poi il computer, se riusciamo a ripararlo con queste versioni Live, che ben venga. Se non riusciamo a ripararlo, comunque il danno è minore, perché dobbiamo soltanto andare a reformattare tutta la macchina, e inizializzarlo da capo, e in quel caso benissimamente il computer ritornerà pulito e funzionando al 100%. Ora, queste versioni Live, dove si possono andare a ripetere? Sono, abbiamo detto, versioni, ovviamente che non offre Windows. Vi potete guardare benissimo il video che è collegato a... Qui ricominciamo sempre con la pronuncia, quindi comunque io rimanco sulla mia idea, quindi con il video che ho fatto di Emule o Emule, come vogliono tutti gli utenti, così non c'è nessuno che si dispiace. Quindi potete andare a guardare proprio quel video di quei tre siti che ho dato io e devo andare a reperire materiale che si collega poi ad Emule, quindi lì potete andare a reperire benissimo le vostre versioni Live di Windows, o anche di Rufus, perché abbiamo detto che Rufus, a differenza di Windows, gira su piattaforme, sempre Windows lo possiamo utilizzare, però diciamo che gira sul famoso Linux, quindi possiamo utilizzarlo sia per Linux che su Windows, però con uno schermato, ovviamente se utilizziamo il Rufus, con uno schermato è come se fosse un Linux, però il procedimento è sempre lo stesso, abbiamo la possibilità di utilizzare i programmini per backupare il nostro hard disk e salvare i dati, tirarli fuori, oppure per riparare Windows, quindi dipende uno se si trova meglio con una visuale, un'estetica di Linux, oppure con un'estetica proprio di Windows, proprio precisa al vostro sistema operativo che state utilizzando. Quindi possiamo andare a reperire su questi tre siti che io ho dato, quindi vedetevi il video, quello di Emule, dei tre siti, per poi invece andarle a masterizzare, in quel caso potete andare benissimamente a vedere, non so qui a spiegare perché il video diventerebbe sempre noioso, perché ripetiamo, sono sempre le stesse cose, potete andare a vedere invece il video per masterizzare, per quanto riguarda la spiegazione della masterizzazione, e che significa masterizzare. Quindi in quel caso possiamo andare a capire, come andare a masterizzare una volta ripetita la nostra ISO, perché deve essere una ISO, andare a masterizzare la nostra ISO sul dischetto, oppure mettere la ISO su pendrive tramite magari un programmino che fa questo tipo di lavoro. Quindi abbiamo capito praticamente che cos'è una copia live del nostro sistema operativo, quando si deve utilizzare, soprattutto la loro importanza, e quindi la importanza di questi sistemi operativi live. Quindi dico sempre che ha un sistema operativo Windows o qualsiasi altro tipo di sistema operativo, anche Linux può essere Ubuntu o quello che sia, possiamo e dobbiamo avere di scorta sempre con noi un disco live che può essere una live di Windows stesso, oppure una live che può ricordarci il nostro, anche il sistema operativo totalmente gratuito, ricordiamolo sempre, che è quello di Linux, quindi scaricando anche Rufus Live. Spero di avervi fatto conoscere cos'è il Windows Live, soprattutto che quando un PC non funziona più a livello di sistema operativo, non è detta mai l'ultima parola. Utilizzate sempre una versione live prima di dire addio al vostro sistema operativo e ristallarlo nuovamente da cavo, che può essere sempre una grande noia. Ciao a tutti e al prossimo video!